Mancano ormai meno di 11 mesi al prossimo 9 giugno 2024, quando i cittadini di Pesaro andranno alle urne per le amministrative. Se Ricci, in occasione dell'incontro pubblico, nove anni da sindaco, tenuto un mese e mezzo fa, non aveva escluso una coalizione di centro-sinistra, il primo cittadino di Pesaro aveva anche lanciato per la prima volta i due nomi dell'EPD in lizza per una candidatura. La scelta tra Andrea Biancani e Daniele Vimini ricadrà sulla figura che più, a detta di Ricci, dimostrerà legame alla città, saprà dare una risposta alle difficoltà, non perdendo di vista però l'ambizione di una Pesaro su scala nazionale. Andrea Biancani, che in occasione della festa dell'unità del weekend scorso in Baia Flaminia, ha rilasciato per la prima volta una sua prospettiva su questo sano dualismo all'interno del PD. Ovviamente io sono tra le persone che sono state, come dire, individuate, coinvolte per la corsa alle elezioni del 9 di giugno del prossimo anno, tra i possibili candidati a sindaco. Devo dire che ancora è prematuro, anche perché manca poco meno di un anno, non si possono fare campagne elettorali così lunghe, anche perché ognuno di noi ha il proprio ruolo, si deve occupare di quello per cui viene pagato per fare, e quindi io penso che sia prematuro. Noi per quanto riguarda il centrosinistra dovremmo trovare un candidato che sia un candidario che cerca di unire le forze del centrosinistra, quindi occorrerà condividere non solo all'interno del PD, ma anche con le altre forze, tutte le forze che vorranno far parte di questa coalizione. Ovviamente il PD sarà e dovrà essere il partito che tira, come si dice, però dovremo fare un confronto aperto all'interno del PD, democratico, cercando di individuare quella figura dove possono convergere più persone possibili, più forze politiche possibili, per poi parlare con il resto della coalizione e cercare di presentarci più forti possibili, anche perché il vento che tira è sicuramente un vento, in questi ultimi mesi abbiamo visto un vento di centrodestra, e noi per poter mantenere la città dovremmo sicuramente presentarci uniti, forti, con la consapevolezza, che in questi anni abbiamo fatto bene, abbiamo fatto scelte importanti, la città di Pesaro è una città dove si sta bene, dove si vive bene e sicuramente questo è legato al fatto che è stata ben amministrata nel corso degli anni.